Il teorema è scomparso con questa sentenza. Questa è stata troppo lunga, non la sentenza. Tutto il meccanismo che ha messo su questo teorema. Ma se non trovano punti di convergenza è difficile. Io mi sono tenuto fuori perché ritenevo che fossero gli altri che dovevano impugnare il vessillo di un partito che era partito di rinnovamento. E' tornato bene e vissuto male.